Allora, mi chiamo Romano, abito a Montesanto e ho un giardino molto grande. Una parte di giardino che viene tenuta un po' come bellezza e una parte che viene data anche agli animali per razzolare, per girare. L'erba in ogni caso è sempre una risorsa perché se tagliata di frequente ogni 7-8 giorni il taglio è molto corto e non occorre neanche rastrellarla e raccoglierla perché è talmente piccola che nel giro di due giorni si secca e va a integrare con le sue sostanze il terreno e quindi lo rende ancora più fertile. Noi abbiamo due possibilità. Abbiamo una camera di compostaggio che quando sono venuto ad abitare qua me l'ha assegnata il comune di Ponte dell'Olio dove buttiamo dentro, oltre agli avanzi dell'umido della cucina, anche tutti i resti del giardino. Quindi ci possiamo buttare dentro anche dell'erba. Io un paio d'anni fa ho commesso l'errore di buttarci dentro della cenere che non avevo ben visitato e non mi ero accorto che aveva dentro delle braci e ho mandato a fuoco il composter di plastica che mi aveva dato il comune. Il contenitore che ho fatto riciclando dei vecchi mattoni l'ho piazzato in un posto abbastanza mezzo al sole e mezzo all'ombra è praticamente un box totalmente chiuso. Il fondo l'ho lasciato di terra l'ho lasciato di terra e ho messo un bancale sul fondo, un bancale di legno per dare a reazione, per dare la possibilità a tutto quello che butto dentro di trasformarsi in humus. Questa è una griglia che ha una doppia funzione, sia quella poi quando tutto l'umido che viene buttato dentro è marcito e si è compostato con un badile lo posso facilmente svuotare e poi ha la funzione anche di dare aria, di ossigenare per trasformarsi in humus. Ma tu dicevi quindi che in questo modo non hai il problema dei topi che entrano? Ecco, i composter, sia quelli in plastica che vengono dati dai comuni, sia questo che ho costruito, hanno una sola possibilità per far entrare i topi da sotto quindi è sufficiente quando si mette il composter in un angolo del giardino di posizionare una rete sotto in modo che i topi non riescano ad accedere all'interno del composter. Senti, invece dicevi che appunto pratichi il mulching, quindi quello che abbiamo visto noi insieme, ma alcuni dicono che può creare, poi può soffocare in qualche modo il prato? E' chiaro che se l'erba tagliata si ammucchia, sotto il mucchio mette un po' in crisi la vegetazione dell'erba, però se uno taglia l'erba ogni otto giorni, sia con la macchinetta classica tagliaerba, sia anche con un decesfugliatore, assolutamente non rastrella l'erba, nel giro di due giorni sparisce tutto e assolutamente il prato non soffia. Qua io ci butto di tutto, vedete, dai rami, dai rami piccoli delle potature, all'erba e poi alla fine viene fuori un terriccio che è bellissimo, che è per i fiori, questo è un terriccio che se si va al supermercato a prendere i sacchi si paga anche caro, questo qui è un terriccio che è usato per i fiori, è il massimo e si decompone nel giro di un anno. Io cosa faccio? Adesso sposto tutto questo terriccio che si è decomposto da una parte e qui faccio una specie di buchetta dove inserisco tutta la roba fresca che metto dentro, quindi i nuovi rametti, questi sono rami che sono ormai andati nella terra, ossigenano e fanno bene anche all'ambiente, a tutto. Certo, grazie Romano. Niente. L'erba non la butto mai nei cassonetti dell'organico del comune, ma la uso principalmente in questi tre modi. Uno è questo, come si è visto, lo lascio qui sul paticello per non sottrarre appunto nessun materiale organico, altrimenti lo accumulo in una compostiera oppure anche in un cumulo a sé di fianco alla compostiera, dove poi posso anche mettere degli ortaggi e le zucche principalmente, che poi posso utilizzare anche attorno agli ulivi per apportare appunto con cime organico. Una facciamatura con dei rametti di questo tipo comunque mi mantiene il terreno più fresco e umido e l'anno scorso si è potuto vedere, verificare bene con la siccità. Anche le potature non le porto nel cassonetto, ma le accumulo e le lascio marcire per poi poterle utilizzare come pacciamature. Gli sfalci e anche le foglie d'autunno le metto in un cumulo, non le metto nella compostiera domestica. Li lascio comunque marcire e trasformare in compost che poi utilizzo nell'orto e utilizzo anche per metterci le zucche, per seminarsi le zucche che vengono benissimo. Invece per gli scarti domestici utilizziamo la compostiera.